Taglio del nastro in via Montello a Pianiga per la nuova rotatoria che regola il traffico della viabilità interprovinciale tra via Barbariga, strada provinciale 49 e la strada provinciale 28 nei comuni di Vigonza, Pianiga e Dolo. All'inaugurazione erano presenti Nunzio Tacchetto, consigliere provinciale della provincia di Padova e sindaco di Vigonza, Alberto Polo, sindaco di Dolo, Massimo Calzavara, sindaco di Pianiga, Carlo Comin, rappresentante della rete ferroviaria italiana SPA, Andrea Menin, dirigente servizio sistema viabilistico città metropolitana di Venezia. È una strada di quasi 4 chilometri che sgrava molto le nostre frazioni dal veicolo pesante e che collega soprattutto alla stazione ferroviaria di Vigonza Pianiga, quindi è un'opera che aspettavamo dal 96 praticamente attraverso i primi accordi e che finalmente dopo tante corse ma anche tanta disponibilità è arrivata alla conclusione. I lavori infatti hanno coinvolto addirittura 4 amministrazioni? Sì, esattamente, il comune di Vigonza, il comune di Pianiga, la provincia di Padova e la città metropolitana ex provincia di Venezia. Appunto anche questo coordinato dai lavori che sono stati eseguiti dai Telfer su mandato RFI e quindi già questa è una complessità. Insomma, uno snodo che non solo sgravia il paese dal traffico, è importante, però rende un accesso migliore anche alla stazione ferroviaria. Indubbiamente, la stazione ferroviaria di Barbariga, Vigonza Pianiga, è una stazione che ha una grande particolarità, in pochissimo tempo può essere sia a Venezia sia a Padova, è usata da tutto il comprensorio che va da Fiesso a Pianiga, a Caltano, a Santa Maria di Sala, Vigonza, a Dolo, quindi è una stazione importantissima. Ma è questa strada che è in sicurezza perché anche la pista ciclabile è un grande parcheggio, è un grande contributo per l'utilizzo anche nel futuro. L'opera nel suo complesso ha riguardato il collegamento tra la strada provinciale 49 in provincia di Padova e la strada provinciale 28 in provincia di Venezia, completa di fossi di guardia, condotte di attraversamento per prevenire l'effetto diga nel caso di eventi meteo, due ponti su scolo, pionca, due piazzole di emergenza. La viabilità provinciale di Padova è stata interessata dalla costruzione di una nuova rotatoria di 45 metri di diametro lungo la strada provinciale 49 verso nord fino al confine provinciale. È stato ricostruito con adeguate dimensioni anche il ponte sullo scolo pionca che in passato aveva presentato problemi di cedimenti.